Musica Musica La sanità ancora una volta nel mirino di Enzo Rivellini, europarlamentare appartenente al gruppo del Partito Popolare Europeo, nonché leader di Mezzogiorno di Fuoco, una costola del PDL. Enzo Rivellini è fortemente polemico nei riguardi del Presidente della Regione Caldoro e minaccia di non far votare, per quanto riguarda la sua parte, il bilancio regionale. Sentiamo le ragioni. Nel mirino abbiamo detto Monaldi, Federico II, Pascale, dopo la denuncia dei giorni scorsi relativamente al San Paolo. Io partirei da una considerazione complessiva. Noi abbiamo sostenuto e votato Stefano Caldoro. Devo ricordare che Mezzogiorno di Fuoco ha la candidata consigliere regionale Bianca D'Angelo, che è la più votata fra tutte le donne di tutti i partiti in Italia, a parte naturalmente il Ministro Garfagna, che era fuori concorso. Ed è quindi stata Mezzogiorno di Fuoco un'associazione che ha dato al Governatore Caldoro un peso notevole per la sua elezione. Noi non rinneghiamo questo voto dato a Caldoro. Se si dovesse rivotare oggi probabilmente lo rivoteremo, ma non possiamo in qualche modo metterci le mani davanti agli occhi nel constatare le difficoltà e le inefficienze di questa giunta Caldoro. Ritornando alla finanziaria regionale, è una finanziaria fatta solo di tagli orizzontali. La campagna non può uscire dalla crisi se non ci sono anche misure sullo sviluppo e sulla crescita. Noi abbiamo votato non un ragioniere, abbiamo votato un governatore, un politico, un uomo che deve cercare di poter coniugare insieme alla sua giunta il rigore, che sicuramente è essenziale in un momento difficile come questo, ma anche un governatore che sappia governare e programmare politicamente la nostra regione. Se volevamo in qualche modo indicare un ragioniere bastava andare all'albo dei ragionieri e votarlo. È facile tagliare come sta facendo Caldoro. Per questo se la finanziaria regionale che fra qualche giorno va in aula non sarà una finanziaria vera, reale, di crescita, di sviluppo, che tagli sì, ma tagli gli sprechi, tagli le consulenze, tagli gli scandali, noi non voteremo questa finanziaria perché non abbiamo nessuna paura davanti ai nostri elettori di fare anche scelte abbastanza coraggiosa. Ecco, oltre alle disfunzioni dei complessi ospedaliere, anche la questione del mirino, anche consulenze e assunzioni. Ma in sanità, per prima cosa il governatore, che è governatore ma anche commissario straordinario della sanità, deve assicurare i LEA, i livelli essenziali di assistenza, i livelli minimi di assistenza, il diritto costituzionale all'assistenza della nostra regione. Poi può procedere ai tagli, ma deve tagliare gli sprechi e le consulenze. Non può tagliare orizzontalmente senza guardare quali sono i tagli che fa. E deve finalmente impegnarsi per eliminare veramente delle cose vergognose in alcuni ospedali della nostra regione. Lei sa, i cittadini sanno, gli elettori sanno che della sanità mi sono sempre occupato. Continuo a girare per gli ospedali. Naturalmente ho voluto dare quasi due anni al governatore Caldoro per poter insediarsi e in qualche modo procedere ad una politica nuova. Era ridicolo che io attaccassi il giorno dopo che lui fosse stato eletto. Bisognava dare il tempo a Caldoro di poter, insieme al suo consulente Calabro, potesse in qualche modo capire di che cosa stavamo parlando. Poi ho visto che nel lui e nel Calabro hanno assolutamente intenzione di migliorare questa sanità. Tra l'altro stanno riesumando, lo ripeto perché è il termine giusto, stanno riesumando le seconde e le terze scelte di Montemarano, gli scarti di Montemarano, mettendoli a dirigere le asle e gli ospedali della nostra regione. Non si procede con le nomine dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi perché non si trova l'accordo politico. Si arriva addirittura a nominare due direttori sanitari alla ASL Napoli 1, che è commissariata, perché l'accordo politico non è riuscito a trovare la quadra su un direttore amministrativo e un direttore sanitario. E naturalmente dopo questo periodo di attenzione nei confronti del governatore Caldoro, io continuando a girare per gli ospedali, ad informarmi sulle varie negligenze che ci sono, ho preparato una serie di dossier che man mano io darò alla stampa. La scorsa settimana ho dato alla stampa lo scandalo del punto nascita del San Paolo. Lo voglio ricordare, 38 persone che producono solo 400 parti all'anno all'ospedale San Paolo, nei confronti ad esempio di Villa Bianca a Via Bernardo Cavallino, che con 7 persone produce 2200 parti all'anno. Oltretutto con uno scandalo notevole perché alcuni dipendenti dell'ospedale San Paolo successivamente al loro turno di lavoro vanno a fare dei turni di guardia all'annunziata prendendo per 12 ore 750 euro l'ordine. Uno scandalo grave che ho denunciato, vediamo se la Corte dei Conti farà luce su questa mia denuncia. Dati allarmanti anche per quanto riguarda la qualità della ricerca, ricerca soprattutto per quanto riguarda l'Istituto Pascale e anche per quanto riguarda la durata delle degenze. Sì, al Pascale la denuncia che farò stamattina è stato fatto un lavoro di statistica mettendo a confronto tutti gli ospedali italiani. Il Pascale, che è l'istituto di ricerca che noi abbiamo finanziato dallo Stato e dalla Regione, è risultato l'ultimo come qualità. addirittura ha una degenza media pre-operatoria, prima dell'operazione di 4 giorni virgola 1 e una degenza post-operatoria media di 6 giorni virgola 5 che arriva addirittura a 14 giorni per il reparto toracico, per le operazioni del torace. che è un sintomo di cattiva preparazione, di cattivo lavoro ed è un sintomo anche che c'è uno spreco enorme di risorse. Questo studio è uscito a giugno del 2011 e incredibilmente a luglio del 2011 Caldoro ha rinnovato al Bassoliniano Pedicini, il direttore generale è un noto bassoliniano, ha rinnovato il contratto, non so su quali dati. E c'è anche un altro scandalo lì al Pascale, c'è uno scandalo relativo a 14 assunzioni fatte ultimamente di guardie giurate che non sono state chiarite dal direttore generale e di circa 200-250 consulenze fatte negli ultimi anni. Ho scritto a Pedicini, Pedicini non ancora mi ha risposto in merito a queste notizie che probabilmente possono essere anche fasulle, ma io spero che Pedicini chiarisca questa situazione. In caso avverso, come ho fatto già per il passato e farò per il futuro, segnalerò alla Corte dei Conti queste disfunzioni. È una chicca anche sul Pascale. Adesso daranno due strutture complesse nuove, daranno due incarichi di primario. La cosa strana, per carità io aspetto di vedere i curriculum, i dati, e naturalmente sono convinto che i due prescelti saranno i più bravi e i più meritevoli. Ma sapete quali sono i tre candidati per questi due posti? Uno è il dottorizzo, nipote del famigerato Ministro della Salute di Lorenzo. Un altro è il dottor Del Rio, figlio del preside di medicina della Sun, il professor Del Rio. E un altro si chiama Sant'Angelo, è il figlio del sessore alla sanità del professor Sant'Angelo. Mi sembra strano che per due posti di primariati ci sono tre nomi eccellenti, oltretutto tre nomi di persone che hanno veramente nel passato caratterizzato in maniera barionale la sanità. Bene, in conclusione apriamo una finestra sull'Europa. Enzo Rivellini, europarlamentare del Partito Popolare europeo. C'è chi teme il rapporto tra l'Italia e il destino dell'euro? C'è chi teme la fine dell'euro entro marzo? Purtroppo è così, sta per arrivare una tempesta. Se non accadrà qualcosa di diverso, io credo che la Germania rimetterà il nuovo marco e uscirà dal contesto europeo. Non so se questo sia una tragedia totale per noi italiani o se invece ci sarà, forse dopo un periodo di crisi, un momento anche di risveglio della nostra comunità. Io ripeto quello che ho detto e che dico in Europa. L'Europa è fatta da 27 paesi, 27 comunità. Noi non possiamo essere paragonati agli Stati Uniti o alla Cina, e alle altre due grandi potenze, perché abbiamo millenni di storia, di grande storia alle spalle. L'Europa è caratterizzata sì dalla stessa razza europea, dalla stessa struttura geografica, ma anche caratterizzata dalla storia degli imperi spagnoli, francesi, inglesi, tedeschi, italiani e quanti imperi in Italia. È una storia che noi non possiamo cancellare e dimenticare. E quindi dovremo coniugare questa Europa come un'Europa delle comunità, per dirla in soldoni. C'è bisogno che i parlamentari e gli esponenti politici di queste comunità, invece che fare prima gli interessi pseudo-europei o dei paesi di tutto il mondo, facessero gli interessi delle proprie comunità, chiaramente in un ambito europeo. Bene, il tempo purtroppo è scaduto. Buon lavoro a voi tutti. Grazie per la cortese attenzione. Tacquino politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.